Ciao Anima Bella, sono sempre Elena di Elena Tionelty Life Coach, sollievo per donne con dolore pelvico cronico. Oggi ho uno speciale VIP MindBody Healthy Reminder per te e segnatela questa, davvero. Dolore pelvico o di altro tipo non importa, ricordati, sii sempre la tua migliore amica. Non remarti contro mai, tanto per ripeterlo ancora una volta, qualora ce ne fosse stato bisogno, tu sei già completa, sei già tutto, tu sei e sei sempre stata la sola e unica, la sola e unica persona di cui hai davvero bisogno. In realtà non hai bisogno di nessun altro per renderti felice, prenditi tutto il tempo di cui hai bisogno per te e per te stessa, per la tua vita e il tuo tempo. Assecondati, vieni ti incontro, facilitati la vita, compiaciti, sei qui per goderti la tua vita e non per soffrire. Quindi fai cose che ti danno piacere, che ti danno gioia, eccitazione, che ti fanno sentire viva, vibrante, piena di energia, ricca e libera di essere te stessa e di vivere la tua vita come vuoi. Non devi chiedere il permesso a nessuno per iniziare ora e incrementare. Onestamente, annegare nella negatività è una perdita di tempo ed è una cosa totalmente insulsa e futile. Più ti concentri sulla negatività e su quello che non va nella tua vita, più la negatività è quello che non va, cresce e si ingigantisce, fino a prendere tutta la tua visuale, tutta la tua attenzione. E' questo quello che vuoi? Vuoi continuare così? Ovviamente no. Quindi processa le tue emozioni, tutte, poi vai più in profondità nel tuo corpo, oltre e al di là degli eventuali sintomi. Vai alla tua energia corporea profonda, uno strato più sotto ancora. Scoprirai che c'è solo e soltanto gioia pura, nello strato più profondo di te, quello reale. Questo è ciò che sei. Voglio che tu ti ricordi e che tu senta il tuo corpo in ogni fibra del tuo essere, la tua energia sottile. Senti tutta la tua energia vibrante dentro di te, pece nella tua ioni e lasciati andare, lasciati sentire te, perché è sicuro essere te. Questa è la tua energia ed è una buona energia. Diventa la versione della persona che vorresti avere sempre intorno. Vorresti stare con una come te, la miglior versione di te, quella che ha processato tutte le sue emozioni fino ad essere tornata a casa con se stessa, con la sua verità, con la sua essenza, cioè amore, gioia, eccitazione e entusiasmo per la vita. Questa è la versione di chi tu sei veramente e onestamente. Ma chi è che non vorrebbe frequentare una così? Chi non vorrebbe la tua compagnia super speciale? Ma certo, quando tu sei la tua miglior versione. Tu per prima ami stare in tua compagnia, ti piaci e ti soddisfi. È figo stare con te. Tutti vorrebbero stare, frequentare, una così. E questa cosa accade poi naturalmente, perché le persone si sentono naturalmente attratte da una persona che emana così tanta positività e gioia pura. Perché mia cara, tu, così come sei, sei semplicemente fantastica. Non c'è niente che non va in te. Tira fuori le unghie. Tira fuori il carattere. Tira fuori chi tu sei veramente. Allora, la tua energia positiva è contagiosa. E stare in tua compagnia è una cosa favolosa. Mia cara, fortunate le persone che hanno il piacere di frequentarti, che godono della tua compagnia, che ancora non ti senti del tutto così ed è totalmente normale avere momenti no. Appunto, processati le tue emozioni e torna all'essenza e alla verità di chi tu sei. Lavoraci. Diventa questa versione di te, che è già lì. Quella che nessuno vuole mai perdersi. Quella di cui tutti vogliono circondarsi. Ragazza mia, tu puoi farlo, perché sei già così, al tuo massimo potenziale. Non devi cambiare proprio niente. Semmai devi tagliere tratti di idee malsane, preconcette, che questa società ti ha semplicemente buttato adosso, che tu hai accettato, hai fatto entrare a cui hai detto sì. Ah, forget it. Abbi cura di te in questo modo, questa è la vera cura di se stessi. Costruisci la nuova te così, che poi nuova è semplicemente essere chi sei, davvero. Datti tutto l'amore che hai bisogno di ricevere, l'amore che sei, sei già. E voilà, le cose belle succedono. Quindi, continua a fare cose che ti piace fare. E scoprine di altre nuove. È fantastico scoprire sempre più cose di te stessa. Che cosa vuoi scoprire di nuovo di te oggi? Vedi te stessa come la versione che vuoi essere. Ah, la donna che vuoi essere. Una donna di valore e che stimi. Una donna di carattere e di cui vai fiera. Allora, come pensa? Parla e agisce una donna così. Questa è la donna che vuoi diventare e che stai diventando. La vera versione di chi tu sei. Non ti devi stravolgere. Ti devi semplicemente coinvolgere con chi tu sei. Allora, com'è essere questa nuova te? O meglio, com'è scoprire chi sei? Come cambiano le cose per te? Come ti vedono ora gli altri? Che tipo di energia attrai? Quando ti concentri sul sentirti felice e completa in te stessa. Perché scopri di esserlo già. Perché hai l'intero universo dentro di te. Concentrati su quest'area del tuo corpo. L'area del cuore. E con il cuore sentiti. Osserva come tutto quanto è già perfetto per te. Non hai bisogno di niente. Tutto è già pronto per la concretizzazione dei tuoi desideri e sogni profondi. E questi diverranno sempre più reali per te. E comincerai a sperimentare sincronicità, benessere, sollievo. In misura sempre maggiore nelle tue giornate. Nei giorni, settimane, mesi e anni a venire. Te lo garantisco. Ricorda che ogni istante è nuovo. Puoi decidere che cosa vuoi creare per te stessa. Il passato non conta è passato. Tieni il buono del passato e costruisci il tuo presente come tu lo vuoi. Tu conti. Tu vali. Tu vivi. Tu sei tu. Tu sei tutto il meglio che c'è. E niente altro conta. Ricordatelo sempre. Se ancora non lo hai fatto, iscriviti al canale. Vieni a trovarmi sulla mia pagina Instagram, Elena Tionelti Life Coach. Ogni giorno troverai tantissimi posti ispirazionali per aiutarti a dissolvere il dolore e a vivere i tuoi sogni. Io ti aspetto al prossimo video.